Buongiorno a tutti carissimi amici e ben trovati con un nuovo appuntamento della Rassegna Stampa. Buon inizio settimana a tutti. Oggi siamo a lunedì 11 gennaio e questo, come dicevamo, è un nuovo appuntamento della Rassegna Stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Partiamo con il Corriere delle Alpi che dedica, purtroppo inevitabilmente, il titolo di apertura all'epidemia da Covid-19 la seconda ondata. Scontro sui nuovi parametri, questo il titolone che troviamo in prima. Le regioni rifiutano la classificazione in base all'indice di contagio che spedirebbe il Veneto in zona rossa. Ricordiamo, ora siamo in zona arancione, però il rischio di passare in zona rossa c'è e andremo a leggere a brevissimo l'articolo di Albino Salmaso a pagina 5. Ieri a San Martino, all'ospedale San Martino di Belluno, si è svolto il V-Day, la vaccinazione anti-Covid e sono stati 357 i vaccinati. Sono operatori e volontari di 17 associazioni che fanno parte della rete di emergenza Urgenza 118 e ci sono gli articoli di Rufini e Forzina le pagine 6 e 7. Troppi contagi in montagna, un altro lancio, scontato il nuovo rinvio per lo sci. Il Valzer delle zone blocca ancora la stagione dello sci. Aprire gli impianti 18 gennaio è una vera utopia, ma Bolzano proverà a convincere il governo. Anche i sindaci perplessi, difficile gestire l'invasione degli sciatori. C'è un articolo di Francesco Dalmaso. La foto di copertina è dedicata a un lutto che ha riguardato Cortina. I coniugi Mario e Bruna vinti dal Covid nel giro di 24 ore. Se ne sono andati 24 ore l'uno dall'altro. C'è un articolo di Irene Liprandi a pagina 8 che andremo a leggere. E ancora cambiando argomento, parliamo di economia. C'è un lancio che riguarda Telios e il gioiello Dior già a 220 assunzioni. Stiamo parlando dell'azienda che ha trovato sede a Lungarone e che ha inserito 155 persone nel 2020 e altre 65 dal primo gennaio del 2021 per far fronte all'arrivo della Maison Dior. E siamo davvero orgogliosi, dice l'amministratore delegato Giovanni Zoppas, dei risultati che si prospettano di fronte a noi. E ancora a Feltre, differenziata nel caos, isole ecologiche come discariche, sacchi appoggiati sopra i contenitori o lasciati a terra. Sistema da rivedere. C'è un articolo di Roberto Curto. Andiamo subito a pagina 8 per leggere del lutto che ha interessato la comunità di Cortina. Maria e Bruno colpiti dal Covid se ne vanno a un giorno di distanza. Il Martino, okheista e amministratore per tanti anni, la moglie titolare del raffinato Shoes. L'articolo è di Irene Aliprandi. Se ne sono andati a poco più di 24 ore di distanza, prima Mariuccia, poi Brunetto. A portarseli via è stato il Covid. Venerdì sera Maria e ieri mattina Bruno. Entrambi erano ricoverati a Belluno. Bruno Ghedina e Maria Sirpaes, 77 anni lui e 74 lei, erano molto conosciuti e per l'intera comunità sono giorni di grande tristezza. Maria gestiva insieme alle figlie, un negozio di artigianato ampezzano in via Cesare Battisti. Lei stessa era un'artigiana molto apprezzata per i gioielli raffinati che sapeva realizzare. Bruno invece era in pensione. Prima lavorava nel negozio di famiglia, il famoso Foto Ghedina, fondato dal grande fotografo Giuseppe e poi portato avanti dai quattro figli. Bruno, detto Brunetto, è stato per molti anni amministratore comunale, consigliere, ma anche presidente della commissione edilizia. L'ultima esperienza in comune risale all'amministrazione di Giacomo Giacobbi che li ricorda, che ricorda sia marito e moglie, con affetto. Ma in gioventù Bruno Ghedina è stato anche un giocatore di hockey e di talento. I coniugi Ghedina avevano tre figli, Daniela, Chiara e Giuseppe. A dare la terribile notizia del doppio lutto alla comunità è stato il parroco Don Ivano durante la messa di ieri mattina senza fare i nomi, ma poi le informazioni si sono diffuse rapidamente. Sia Bruno che Maria infatti erano molto noti e benvoluti in paese. Un ricordo arriva dal sindaco di Cortina, Gian Pietro Ghedina. Abitavano in Corso Italia, ma per 40 anni siamo stati vicini di casa in via Cesare Battisti. Mi sento molto legato a loro. Bruno e Maria hanno dato molto al paese e la loro scomparsa ha smosso la comunità. Desidero mandare un grande abbraccio ai figli e a tutta la famiglia, dice il sindaco. Profonda tristezza anche nel ricordo di Nives Milani, di Radio Cortina. Il soprannome della famiglia era Basilio e tutti li conoscevano e volevano loro bene. Si unisce al cordoglio del paese anche Elsa Zardini. Erano due persone molto perbene. Lui era uno sportivo ed era stato amministratore comunale per anni. Era sempre presente per la nostra comunità. Mariuccia aveva un'attività molto bella e tutti le volevano bene. La conoscevano anche se non faceva vita mondana. La loro scomparsa è una grande tristezza. La data dei funerali non è stata ancora fissata. C'è una fotografia in cui i due coniugi vengono mostrati insieme. Brunetto e Mariuccia, come venivano chiamati da chi li conosceva e da tutti. Sempre nella stessa pagina ci sono i dati che riportano la situazione del Covid ieri in provincia, nelle ultime 24 ore. Altri 4 morti e 108 casi positivi in provincia di Belluno. Continua a scendere, si legge nell'articolo, il numero delle persone attualmente positive al Covid-19, ma non diminuiscono i decessi. Fra sabato e ieri sono infatti morte 4 persone positive al virus. Due uomini di 62 e 77 anni ricoverati in rianimazione a Belluno, una donna di 92 che era ricoverata in geriatria a Feltre e un uomo di 64 ricoverato in geriatria a Belluno, scusate, la donna di 92 anni e l'uomo di 64 era ricoverato in geriatria a Feltre. E' salito anche di un'unità il numero dei contagi dal Covid-19 a Danta, dove gli attualmente positivi sono 11, parliamo del punto fra i comuni. L'aggiornamento diffuso dal comune risale a sabato, 29 positivi ad Arsie con due persone ricoverate, le persone in isolamento fiduciario sono 20. Si mantiene stabile il numero di casi positivi a Cortina, dove a venerdì si contavano 68 persone contagiate dal virus e 45 le persone in isolamento domiciliare. A San Vito, infine, venerdì c'erano 12 persone positive e 5 in isolamento. Chiudiamo un attimo la questione locale per tornare a quelle che potranno, che saranno, che potranno essere le misure previste per i prossimi giorni. Siamo a pagina 2. Nuova stretta, la movide, spostamenti vietati, scontri nelle zone rosse, scontro sulle zone rosse. Oggi vertice sul decreto tra Bocce e le regioni, boom di contagi in Emilia, stop all'asporto dai bar alle 18, resta la deroga per visite a parenti e amici. Quindi quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, vediamo. Se gli italiani speravano di tornare gradualmente alla normalità dopo le feste natalizie, si dovranno rassegnare. L'Italia non riparte, anzi arrivano regole più severe per combattere la terza ondata dell'epidemia ormai alle porte. Siamo in una fase di recrudescenza del virus, c'è bisogno di stringere, ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza. Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà al divieto di spostamento tra regioni. Tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore DPCM, un ulteriore decreto. Saranno confermate le norme vigenti con nuove limitazioni. Tra queste, in limitazione, ci sarà lo stop all'asporto per i bar dopo le 18. E scatano oggi le misure che prevedono 5 regioni in zona arancione, tra cui ci siamo noi, il Veneto, insieme a Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Tutte le altre sono in area gialla rafforzata con il divieto di circolazione oltre i confini regionali. A individuare quale fasce di rischio sono le soglie più basse dell'indice di contagio che le determinano, ma criteri ancora più rigidi sono in arrivo con il prossimo decreto che resterà in vigore il 16 gennaio e durerà almeno un mese. Ieri pomeriggio il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi della delegazione dei partiti di maggioranza, insieme al ministro Francesco Boccia e al sottosegretario Riccardo Fraccaro. Tra le ipotesi che il governo discuterà stamani con le regioni spicca la stretta sulla movida con il divieto dell'asporto dopo le 18 per i bar, garantendo però le consegne a domicilio. Probabile una proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Nel prossimo DPCM resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la possibilità per due persone di andare a trovare amici o parenti una volta al giorno. Potrebbero saltare i fini settimana arancioni in tutto il territorio nazionale, mentre sono da definire i parametri della zona bianca da istituire nelle regioni più sicure. Un'idea che era filtrata nei giorni scorsi ipotizzava aree bianche con indice di contagio inferiore allo 0,5 o con 50 contagi ogni 100.000 persone. Sono questi alcuni dei noti da sciogliere nel confronto tra aperturisti e rigoristi all'interno dell'esecutivo. Quindi entro venerdì arriverà il nuovo DPCM. e c'è scontro tra le regioni, scontro da parte delle regioni per quanto riguarda i nuovi parametri, infatti si leggono in titolo a pagina 5, nuovi parametri, regioni già in rivolta. Bonaccini dice no al criterio dei 250 casi ogni 100.000 abitanti per la zona rossa e oggi incontro con speranza e boccia. L'articolo è di Albino Salmaso. La santa alleanza delle regioni contro il Ministero Speranza per scongiurare la soglia del nuovo parametro di 250 contagi ogni 100.000 abitanti che fa scattare la zona rossa. Il Veneto è già condannato con il record di 454,31 casi in una settimana che raddoppia a 927 su 14 giorni. In termini assoluti di inizio pandemia il peso dei positivi ogni 100.000 abitanti è il più alto d'Italia, quello in Veneto. Pari a 5.888 casi mentre la Lombardia si ferra 4.811 ma con il record assoluto dei morti che è arrivato a quota 25.725 mentre il Veneto ne conta 7.422. A guidare la crociata contro gli scienziati dell'IS, dell'Istituto Superiore di Sanità che hanno proposto un nuovo parametro è Stefano Bonaccini, presidente della conferenza delle regioni e protagonista con Zai e Fontana della trattativa dell'autonomia differenziata. Trovare un punto di equilibrio non è semplice e stamattina ci sarà l'ennesimo round tra i ministri Boccia e Speranza e i presidenti delle regioni guidati da Bonaccini. Le premesse sono chiare. Quel limite non l'abbiamo chiesto noi e se volete la mia impressione non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione e lo spostamento, ha detto il presidente dell'Emilia Romagna in visita alla sua Modena. L'asse con Zai è più forte di quello con Zingaretti, la fedeltà di partito mal si concilia con i dati dell'epidemia che vedono ancora il triangolo industriale Lombardo-Veneto-Emiliano tra i più colpiti in Europa. Tuterare la salute e salvaguardare i redditi e posti di lavoro sta diventando sempre più complicato perché dalla pandemia se ne uscirà solo dopo aver vaccinato 42 milioni di italiani e questo verrà forse appunto a ottobre. Bonaccini però non vuole nemmeno parlare dell'ipotesi avanzata di far rientrare direttamente in zona rossa le regioni con un'incidenza di 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Ci confronteremo con il governo e come sempre cercheremo di fare il meglio possibile. Dopo il Veneto nella soglia a rischio c'è infatti l'Emilia seguita da Bolzano. Si salva solo la Toscana che manda gli studenti a scuola grazie alle restrizioni fatte scattare a novembre. Appunto questo si legge nell'articolo e questa mattina ci sarà l'incontro e forse si arriverà a una decisione. Insomma vedremo quello che accadrà. Andiamo avanti e leggiamo quel che riguarda il coronavirus in provincia di Belluno. Torniamo a parlare della provincia. Siamo a pagina 6. Ieri c'è stato il V-Day con la vaccinazione per 357 volontari. Ora 17 associazioni sono a sicuro. Erano presenti i soccorritori delle croci, del soccorso alpino e delle realtà che si occupano di assistenza sanitaria. L'articolo di Alessia Forzin. L'esercito dei volontari e degli operatori della rete di emergenza urgenza 118 ha risposto in massa la chiamata del vaccino. Sono 357 gli operatori che ieri si sono sottoposti alla vaccinazione contro il covid-19 al drive-in allestito all'ospedale San Martino di Belluno. Vista la grande richiesta sono state aumentate le dosi disponibili ed è stata attivata una seconda linea di vaccinazione per permettere a più persone possibile di ricevere la prima dose del farmaco. Nella pagina seguente, a pagina 7, ci sono le testimonianze di chi si è fatto vaccinare. Su M118 il primario elogia i soccorritori, pedine fondamentali in questa battaglia e c'è il suo intervento in un articolo che ha cura di Fabrizio Ruffini. E sotto ancora da Falcade i primi della fila, siamo qui per gli anziani, il personale della Croce Verde e della Val Biois in massa la campagna riservata. Costretti a una levataccia ma siamo felici di essere qui per la sicurezza di tutti e ci sono poi delle foto. In molti per paura hanno preferito non andare in ospedale evitando di allertarci. Si legge all'interno dell'articolo ed è una delle problematiche che si sono verificate infatti in questi mesi. Persone che per paura di andare in ospedale hanno evitato di segnalare casi di malessere, situazioni in cui c'erano patologie che possono anche peggiorare se non vengono curate in modo tempestivo. Tutti in coda per il vaccino, si legge nell'articolo, è una questione di rispetto per gli altri. I primi ad arrivare e a fermarsi in macchina in l'Indiana da Valdi al Trendone del Drive-In sono stati volontari della Croce Verde Val Biois di Falcade. Lavorando nel volontariato è giusto dare un segnale agli altri e aiutare la comunità a preservarsi dalla malattia. Questo vale soprattutto per gli anziani ma non solo, dice una volontaria. È importante essere qui per la sicurezza propria e anche per quella di tutti gli altri. A Falcade abbiamo un numero importante di contagiati, non è una bella situazione. Dobbiamo pensare agli anziani soprattutto ma il nostro compito diventa più difficile di giorno in giorno per l'insieme di varie condizioni che stanno via via peggiorando. È stato quindi un anno particolarmente difficile e i volontari, appunto come si legge nell'articolo di Ruffini, hanno deciso di vaccinarsi. Andiamo avanti e leggiamo quel che riguarda l'apertura degli impianti di sci. Il valser delle zone blocca ancora lo sci. Aprile 18 utopia ma Bolzano ci prova. Il numero dei contagi è alto anche nelle località di montagna e Minella, Renzo Minella, dice priorità alla salute ma ci aspettiamo i giusti. Aiuti l'articola di Francesco Dalmas. Poche illusioni, neppure il 18 gennaio riapriranno le piste da sci. Ancora troppi i contagi. Il prossimo DPCM non lo consentirà e l'orientamento che sta maturando nel governo dopo le riflessioni del comitato tecnico scientifico. Non è escluso che dopo una settimana di colore arancione il Veneto diventi rosso. Probabilmente anche il Trentino e l'Alto Adige, come Friuli Venezia Giulia, potrebbero invece diventare arancioni. Quindi lo sci è proprio escluso. Un estremo tentativo di aprire una breccia per il 18 lo farà oggi la delegazione della provincia di Bolzano, agganciandosi alla richiesta avanzata nei giorni scorsi al governo da Stefano Bonaccini di valutare la possibilità di aprire lunedì prossimo. Il ministro Speranza non l'aveva escluso ma ponendo di fatto due condizioni. Il rispetto della zonizzazione, se giallo ci scia, altrimenti no e soprattutto l'attivazione delle linee guida del comitato tecnico scientifico. Ci sono poi le dichiarazioni di Minella, Renzo Minella, presidente dell'ANEF. Apriremo le piste solo quando ci saranno le condizioni di massima sicurezza, dice. Intanto però vogliamo prepararci e per questo è necessario che CTS ci fornisca linee guida evidenti in ogni caso che a fronte di questo sacrificio i ristori devono essere giusti e rapidi, dice appunto Renzo Minella. E poi a pagina 10 c'è un approfondimento. Il titolone che si legge è i 250 nuovi positivi per 100.000 abitanti, Veneto in zona rossa già alla fine di ottobre. Questo si legge nel titolo e nell'analisi di Giampiero Dalla Zuanna. Il governo sta finalmente rivedendo i criteri per decidere i colori delle regioni sotto l'incalzare del virus, l'algoritmo che determina i colori, ribilanciando la forza dell'epidemia con la tenuta del sistema sanitario, dovrebbe essere sostituito da semplici indicatori della diffusione dell'infezione all'interno della popolazione. A quanto pare la zona rossa potrebbe e dovrebbe essere adottata per le regioni con più di 250 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. Lo leggevamo prima. È un criterio rischioso perché le regioni potrebbero essere indotte a fare meno tamponi per evitare maggiori ristrezioni. Tuttavia proviamo ad applicarlo in questi interminabili tre mesi di seconda ondata. Se questo criterio fosse stato adottato fin da ottobre, le cose nel Veneto sarebbero andate in modo molto diverso, perché questo livello di contagio è stato superato già alla fine di ottobre, come nelle altre grandi regioni del centro e nord Italia. Poi, mentre da metà novembre nelle altre regioni, che sono divenute rosse e arancioni, il numero di nuovi contagiati diminuiva, portandosi già a inizio dicembre sotto la soglia di 250 ogni 100.000 abitanti, nel giallo Veneto ha continuato a crescere, superando 500 nuovi positivi per 100.000 abitanti per tutto il mese di dicembre. Quindi nell'articolo si legge chiaramente che il Veneto avrebbe dovuto essere in zona rossa già alla fine di ottobre e se questo fosse accaduto probabilmente il numero dei contagiati, il numero delle persone ricoverate non sarebbe quello attuale in Veneto. Ricordiamo che si trova nella situazione peggiore al momento in tutta Italia. Chiudiamo la parentesi legata al coronavirus e leggiamo un altro paio di notizie prima di passare al gazzettino. A pagina 17 c'è un articolo che riguarda la viabilità verso i mondiali del 2021. Longarone in ritardo tutti i lavori Anas. Padrin sulla variante, subito il progetto, afferma. Cantieri ancora aperti lungo l'Alemagna, pochi disagi viste le piste chiuse, ma ora non c'è più tempo da perdere. L'articolo è di Francesco Dalmas. Nessuna opera infrastrutturale in corso a Longarone da parte di Anas sarà conclusa per tempo. A constatarlo amaramente è il sindaco Roberto Padrin che ammette ha imperversato il virus, è arrivato al maltempo, riconosco all'Anas tutto l'impegno possibile, ma siamo andati avanti di ritardo in ritardo. È paradossale, dice ancora Padrin, ma devo ammettere che ci sta aiutando proprio la scarsità di traffico causata dal lockdown. Non abbiamo lo sci che soprattutto nei fine settimana comporterebbe lunghe code in strada e i mondiali si svolgeranno senza pubblico. Un amaro riscontro a quello del sindaco che è anche presidente della provincia. Quello che più ci preoccupa in prospettiva è di correre, cioè di non perdere un giorno di tempo, per progettare la variante di Longarone ipotizzata per le Olimpiadi del 2026. E per quanto riguarda tutte le altre opere, solo l'innesto con la 251 della Val Zoldana potrebbe vedere la luce entro la fine del mese. Andiamo a leggere ancora un articolo che riguarda il Feltrino e poi andiamo al Gazzettino. Siamo a pagina 22. Le isole ecologiche come una discarica è differenziata nuovamente il Tilt. Le tessere per l'umido non sembrano aver dato risultati, decine e decine di sacchetti abbandonati all'esterno. È la situazione a Feltre nell'articolo, come si legge anche, come scrive Roberto Curto. Si tratta di una visione limitata a ciò che il cronista ha trovato ieri a metà mattina girando alcune zone della città e si vedono appunto gli abbandoni nel parcheggio della Cop, rifiuti a terra al campus di Borgo Ruga e anche cassonetto del rifiuto organico in via Rizzarda e vari sacchetti abbandonati. Per chi ci segue in video ci sono le fotografie che mostrano la situazione. Sacchi appoggiati sopra i contenitori o lasciati a terra, in qualche caso incastrati alla bella e meglio tra un cassonetto e l'altro. Stando alla situazione di alcune isole ecologiche, la riattivazione delle tessere per conferire rifiuto organico non ha assortito effetto, tant'è che è sempre l'umido a farla da padrone nella percentuale dei maggiori abbandoni di rifiuti. A questo punto non si capisce se i Feltrini abbiano capito che possono aprire i contenitori con la tessera elettronica in loro possesso oppure stiamo assistendo a un turismo della spazzatura. Forse rinforzato dalla possibilità di spostarsi da un piccolo comune a un altro nelle giornate di sabato e di ieri. Quindi è una bella grana quella che ora toccherà a Bellunum risolvere. Dopo che il comune di Feltr ha votato nell'ultimo consiglio comunale, l'adesione alla società con sede nel capoluogo di provincia, affidandogli la gestione del servizio. Passiamo come anticipavo al gazzettino. Andiamo subito, anzi prima di andare all'edizione di Belluno leggiamo una notizia che riguarda quello che bisogna fare per essere vaccinati. Siamo a pagina 7 del gazzettino dell'edizione del nord-est. Gli over 80 dovranno contattare il medico di base a meno che non siano ricoverati per gli ultra sessantenni, pronti drive-in e dall'autunno profilassi anche in farmacia. In Italia resta al momento l'indicazione di effettuare la seconda dose dopo 21 giorni dall'inoculazione della prima. La conferma è arrivata dal comitato tecnico scientifico ieri. Il nostro paese non segue l'esempio del Regno Unito che per contrastare un'epidemia che ogni giorno fa segnare il triplo dei casi italiani ha deciso di vaccinare con la prima dose più persone possibili, riviando la seconda. In queste ore in Italia è tesa anche la fornitura di Moderna. Per questo vaccino tra prima e seconda deve trascorrere un mese. Bene, ma posto questo punto fermo, cosa dovrà fare ogni italiano per essere vaccinato? Ad oggi non è possibile richiedere di essere vaccinati. L'operazione riguarda operatori sanitari, dipendenti e ospiti nelle RSA. Ognuno di loro ha compilato un modulo per confermare l'adesione a cui segue la convocazione. Per quanto riguarda gli anziani, come saranno convocati gli ultraottantenni. Secondo Arcuri arriveremo a 6 milioni di persone vaccinate entro la fine di marzo. Evidentemente si conta di iniziare con gli anziani già a febbraio e con gli anziani in provincia di Beluno si inizia già da oggi. Lo leggeremo poi nell'articolo seguente. Scatterà il coinvolgimento dei medici di famiglia. Nel Lazio spiegano all'assessorato alla salute. Chi è già ricoverato sarà vaccinato nella struttura ospedaliera. Lo stesso vale per chi è in riabilitazione o in assistenza domiciliare. Per tutti gli altri, chi ha più di 80 anni dovrà contattare il proprio medico di base. La vaccinazione potrà avvenire anche negli studi, ma con la supervisione degli hub dove sono conservati i vaccini a bassissima temperatura. E per quanto riguarda le altre fasce di età, ad oggi molte domande sono ancora senza risposta. Non sappiamo quante saranno realmente le dosi a disposizione e in che tempi. Non c'è certezza su quando arriveranno le dosi aggiuntive dei vaccini Pfizer e Moderna, che sono già stati acquistati dall'Unione Europea, e soprattutto le 40 milioni attese dall'Italia da AstraZeneca, sul cui vaccino EMA si pronuncerà fra tre settimane. Quindi si sanno un po' le tempistiche, però sulle modalità ci sono ancora tanti aspetti non conosciuti. È presto per chiedere quando ci saranno i famosi tendoni, anche se alcune regioni vogliono ricorrere ai drive-in per i tamponi o a luoghi come i palasporti. Da marzo ad aprile sarà la volta di coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 79 anni e per chi ha delle patologie croniche gravi. Poi gli insegnanti, i lavoratori dei servizi essenziali, chi ha comorbidità meno gravi. Anche in questi casi, linea di massima, ci potrà essere il passaggio al medico di base da contattare, ma visto che i numeri aumentano, la vaccinazione vera e propria verrà in luoghi vasti come appunto tensostrutture, palasporti e drive-in. E chi ha meno di 60 anni dovrà aspettare, se non rientra nessuna delle altre categorie, dovrà sostanzialmente attendere settembre-ottobre e in quel momento ci sarà una vera e propria vaccinazione di massa che coinvolgerà anche le farmacie. Questo è il cronoprogramma e vediamo se si riuscirà a rispettarlo. E la prima di Belluno è proprio dedicata ai primi 500 vaccini agli anziani che partiranno oggi. L'Ulss ha convocato centinaia di ultraottantenni a Belluno e Feltre, sono le prime dosi fuori da ospedali e case di riposo. Nel capoluogo i medici useranno i locali della parrocchia. Sono 250 gli ultraottantenni convocati per questo pomeriggio nella parrocchia di Cavarzano a Belluno, più o meno altrettanti quelli che verranno sottoposti al vaccino a Feltre. A tutti verrà somministrata la prima dose del vaccino Pfizer, l'unico disponibile al momento. A Belluno ad aprirsi saranno le porte della parrocchia dove i medici di base avranno un ambiente adeguato per la somministrazione. Non ho pensato minimamente se dover dire sì o no, ho detto sì e basta. Don Andrea Costantini, parroco di Cavarzano-Sarniano, racconta così la sua decisione di mettere a disposizione i locali della parrocchia. Ieri è stato immunizzato il personale del 118, tutto personale che è coinvolto nell'operazione di emergenza urgenza. Sono arrivate a quota 4.128 le prime dosi di vaccino somministrate in provincia a fronte delle 7.569 richieste al governo come prioritarie. e poi ancora andremo a leggere adesso l'articolo sui vaccini però ci fermiamo un attimo ancora sulla prima. Centinaia di persone sfruttano le regole, siamo ai movimenti che ci sono stati nei giorni scorsi, zona arancione ma i turisti salgono e c'è un articolo di Andrea Zambenedetti. Andiamo appunto proprio alla questione dei vaccini. Usata più di una dose su due fra quelle richieste al governo immunizzato anche il 118. Ieri è stato il giorno della prima dose del vaccino per gli uomini dell'emergenza, leggevamo prima che sono state 357 le dosi somministrate ieri. A rispetto di quello che si è temuto nelle settimane precedenti all'arrivo dei vaccini non c'è stata di scettici, non c'è stata neanche l'ombra. Anzi, vista la grande richiesta, ha spiegato l'Ulss, ci eravamo attrezzati per aumentare le dosi disponibili ed era stata attivata una seconda linea di vaccinazione. Sono già arrivate a quota 4.128 le prime dosi di vaccino somministrate in provincia di Belluno, oltre la metà di quelle che la provincia ha inserito come priorità nella tabella inviata a novembre al commissario stadinario per l'emergenza Covid Arcuri. Quindi la priorità inviata dalla provincia è di 7.569 dosi, si è già superata la metà perché si è arrivati a quota 4.128. In settimana saranno completate tutte le prime somministrazioni nelle case di riposo e nei presidi ospedalieri, al fabbisogno richiesto al commissario Arcuri vanno infatti sottratte le persone che non possono sottoporsi al vaccino in questa fase o ancora quelle che hanno già superato il virus e quindi vengono considerate immunizzate per un certo lasso di tempo. E oggi ricordiamo partono le operazioni per vaccinare gli ultra ottantenni, l'obiettivo è di immunizzare 500 persone tra Belluno e Feltre. Leggiamo ancora un articolo e poi chiudiamo la rassegna di oggi, ci fermiamo ancora nelle prime di Belluno. Cambio colore enorme e complicate, così i turisti arrivano in montagna, il sole e la neve hanno rappresentato anche ieri una calamita per i visitatori arrivati in quota. Tra le spiegazioni del governo la deroga per chi vuole fare sport e che non può praticare altrove. E l'articolo è sempre di Andrea Zambenedetti. Un piazzale colmo di automobili parcheggiate, qui siamo in Alpago, in località Cate. La proda ideale per chi vuole farsi quattro passi tra la neve o una gita con le ciaspole, ma non è l'unico posto in cui ieri si è potuto assistere a un movimento superiore a quello che ci si aspetta in zona arancione. I carabinieri della squadra di soccorso alpino della compagnia di Cortina hanno controllato gli itinerali lungo Forcella, Giao o Mondeval e hanno controllato che gli appassionati agissero in sicurezza nel rispetto delle norme. Circa 90 quelli incontrati, una decina con le ciaspole. In rete sono state rilanciate nelle ultime ore una marea di foto mozzafiato che raccontano le dolomiti come mai le abbiamo viste. È l'effetto di una settimana in cui il Veneto e la provincia di Belluno hanno cambiato tre colori, passando dal giallo di lunedì al rosso dell'Epifania, per tornare all'arancione del fine settimana e del decreto firmato dal ministro Speranza. Un cambio di regole così repentino da rendere difficile per chiunque cogliere il confine tra lecito e illecito. Peggio ancora, nelle pagine social di diversi comuni della provincia sono apparsi dei vademecum, a volte in contrasto con le domande frequenti a cui risponde il Governo nel sito istituzionale. Insomma, non sempre è facile destreggiarsi tra le pagine delle stesse istituzioni che vengono elevate al rango di giurisprudenza. Ma il punto è un altro. Mentre l'epidemia non accena a rallentare, neanche chi si vuole concedere quattro passi sulla neve ne vuol sapere di rallentare o di starsene a casa. Barri e ristoranti sono chiusi e devono quindi rinunciare agli affari che l'arrivo dei turisti avrebbe garantito. Nonostante il buon numero di persone in giro, barri e ristoranti sono rimasti chiusi, in campo anche i carabinieri soccorritori vicino alla forcella Giaumondeval trovati in 90. Quindi come si legge nell'articolo, anche se la pandemia continua ad accelerare, neanche chi si vuole concedere quattro passi sulla neve ne vuol sapere di rallentare o di starsene a casa. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Vi aspettiamo con l'appuntamento puntuali anche domani. Intanto un sereno lunedì a tutti e buon inizio settimana. Seguite le notizie che pubblichiamo costantemente sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it Grazie a tutti per l'ascolto e a prestissimo. Arrivederci.